Il sindaco, ieri, forse in maniera anche inaspettata, è esplosa un'enorme polemica da più fronti per la nomina di Pietro Ioia, garante dei detenuti di Napoli. Lei rivendica questa scelta e come reagisce a queste polemiche, anche dei sindacati della Polizia Penitenziaria? Raccontate un caso di una nomina che faccio in cui ci sono polemiche, quindi non mi sono voluto smentire.